Il principe Ferri ha detto di aver deciso di non includere diverse cose nel suo libro di memorie, intitolato Spare. Il principe Ferri ha detto che la trascrizione originale della sua autobiografia, Spare, era lunga il doppio della bozza finale di 416 pagine. Gran parte del contenuto che ha deciso di non includere, ha detto il duca di Sussex in un'intervista appena rilasciata, riguardava le interazioni tra lui, il principe William, e il re Carlo. Punto. Parlando con Brioni Gordon del Telegraph, Ferri ha detto che la parte difficile è stata scegliere cosa togliere dal libro. Spiegando perché non ha rivelato alcuni dei suoi scambi con i suoi parenti reali più stretti, il duca ha detto, ci sono alcune cose che sono successe, specialmente tra me e mio fratello, e in una certa misura tra me e mio padre, che ho appena non voglio che il mondo lo sappia. Ha aggiunto che non pensa che la coppia mi perdonerebbe mai. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.